I limiti della Regione nella capacità di spesa dei fondi europei vengono tutti a galla nel settore dell'energia che a causa delle continue rimodulazioni ha di fatto perso il 50% delle risorse a disposizione facendo venire meno il contributo della Regione allo sviluppo di questo importante ambito. Lo sostiene la CGL Sicilia che ha presentato un dossier sull'argomento. Dal documento si ricava anche che la gestione dirigistica nell'ambito del patto dei sindaci rischia di produrre piani di azione che restano sulla carta rischiando così di creare le condizioni per far proliferare i cosiddetti affari. L'allarme che abbiamo lanciato è quello di non ripetere gli stessi errori. Sostanzialmente i fondi strutturali in Sicilia valgono qualcosa come 6 miliardi e mezzo e il 33% di questi fondi sono stati rimodulati. Rimodulare significa perdita di tempo. Ci sono delle situazioni paradossali come per esempio bandi che partono come nel caso delle filiere energetiche con una dotazione di 200 milioni di euro per arrivare a 25 milioni di euro. Ci sono paradossi come nel caso della selezione degli esperti per animare i comuni chiamati appunto a realizzare questi piani di efficientamento energetico. Si sono fatti i bandi e nel 2011 ancora oggi le graduatorie devono essere approvate. Per la CGL è dunque arrivato il momento di un'inversione di rotta sulla spesa dei fondi europei ma anche del varo di un piano energetico condiviso e partecipato. Il sindacato infatti propone anche la creazione di un distretto tecnologico con l'apporto di università e di enti di ricerca e di una cabina di regia coordinando così le attività dei vari assessorati e la spesa europea in un settore come quello dell'energia che di fatto si collega e si intreccia con tutti gli altri settori produttivi e con le problematiche dell'ambiente e del territorio.